per molto tempo i vichinghi furono creduti solo in natura i deboli nutrono i forti un tempo la valle di valkenheim era coperta da un'immensa anche se il loro acciaio non è raffinato per un anno intero le segherie e i laboratori dei vichinghi i vichinghi imprimono nella pietra le gesta dei loro l'anno successivo all'assalto i vichinghi sono sono pochi i folli capaci di banchettare e fare festa migliaia di anni fa valkenheim ospitava un il clan degli esterminatori annientò ogni resistenza costruiamo nuovi edifici sui santuari lasciati dai migliaia di valkenheim Grazie a tutti. Più un vichingo si copre di gloria, più grazie a tutti. I vichinghi venerano gli dèi del legno. Di la... Grazie. 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 I vichinghi non si uniscono mai davvero. Non potranno resistere! Le macchine da guerra dei samurai fanno sembrare le nostre... Il forte sul mare dei samurai proteggeva uno dei pochi luoghi... Quella catena è perfetta! Tutto ciò che dovevamo fare era respingerli. I samurai non avevano avi in queste terre. Li stiamo battendo! No! Oltre la fortezza si estendeva il maier. Prima che le acque si ritirassero, l'entrata era un... Il comandante del forte era Fujikyo, un campione dei samurai. Prendere la spiaggia era stato semplice. Non... Il primo gruppo di esploratori inviato nel maier dai vichinghi... La mia volta è stata sma... Prendere la spiaggia. E' stato semplice. Chiaramente mi intendeva una delle leag 싸che... Non si. Prima che le disegni sarebbe. Non si. Non si riflesso. Non si è. Non si. Non si. Non si. Non si. Non si. Il compito di controllare e difendere il maier. I samurai sono qui da 500 anni. I samurai sono qui. Il Mair è un luogo spaventoso. 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 Per un samurai, far prigionieri nemici significa disonorarli. Per un uomo spaventoso. Il Mair è un luogo spaventoso. Il Mair è un luogo spaventoso. Per un uomo spaventoso. Quando i samurai giunsero in queste terre... Il nuovo imperatore regnava sulla città dal suo palazzo. Il Mair è un luogo spaventoso.